Nel cuore di Palermo, in via Quintinosella, apre un palazzo interamente dedicato alla bioetica e alla cultura, un progetto ambizioso e rivoluzionario intitolato alla memoria di Flavio Beninati, un ragazzo morto il 14 maggio del 2006 a soli 33 anni dopo un mese di coma. Mio figlio Flavio era morto dopo un mese di coma, esattamente sette anni fa oggi. Durante questo periodo non ci hanno mai dato l'opportunità di avere dei rapporti con lui, di vederlo, di toccarlo, di parlargli. Quindi abbiamo ritenuto, dopo la sua morte, che fosse necessario che si spingesse a pensare, a valutare meglio il rapporto che il medico deve concedere ai parenti che sono in coma. E quindi di approfondire gli studi, di raccogliere materiale, ci avvaliamo della collaborazione di professori, abbiamo formato dei comitati scientifici e soprattutto raccogliamo materiale da tutto il mondo che studia, di argomenti che studiano lo stato di coma e di minima coscienza. Però man mano che abbiamo portato avanti, stavamo organizzando questa iniziativa, abbiamo ritenuto di ampliarla e di dedicare l'intero stabile a Flavio. E quindi abbiamo creato due rami, uno che si chiama Lettera F e che si occupa proprio di bioetica, l'altro che si chiama Archivio Flavio Beninati, che si occupa più di cultura. Abbiamo fatto laboratori di scultura, abbiamo fatto laboratori di incisione, c'è una sala da disegno, biblioteche, ci sarà un caffè letterario, insomma, e c'è anche una radio, una radio. L'Archivio Flavio Beninati si occuperà di arte, architettura, design, fotografia, cinema, moda, fumetti, scienze, animazione e molto altro. Bioetica, ma anche Italia. Ho vissuto all'estero per tanti anni e so quanto bistrattata sulla mia pelle, sia la cultura italiana. L'Archivio è principalmente in rete e quindi tu puoi consultare, per esempio lì puoi scoprire che l'informatica è una faccenda italiana. Il microprocessore non l'ha inventato un americano, l'ha inventato un italiano che si chiama Federico Faggin. Non soltanto noi non sappiamo queste cose, ma in più abbiamo un complesso di inferiorità rispetto agli altri. Questa è una cosa che, tornando dall'estero, ho notato. La cosa che mi preme di più però è fare come giustizia della cultura italiana. Mentre l'Archivio è più che altro una faccenda multimediale, che poi ha appendici in un giornale, che si chiama i quaderni dieci grammi, che pubblichiamo, in quale volta abbiamo un buon numero di approfondimenti e di una qualità abbastanza... I quaderni dieci grammi. L'articolarità, oltre ad essere ogni pagina dedicata a un personaggio italiano di qualsiasi campo, qualsiasi epoca storica, anche totalmente sconosciuto, è il fatto che questo piccolo giornale, ogni numero viene illustrato da un artista internazionale. Secondo lei, se oggi Flavio potesse visitare questo palazzo aperto alla città, cosa direbbe? Mamma, sei una touca! Grazie a tutti!